Alberto Barbero, Abito Vistori, edizione 2017. Buongiorno a tutti, sono Barbero, appartengo all'associazione Discola di Torino, sono responsabile del gruppo ricerca e sviluppo e appartengo a questa associazione che è una rete di scuole che aiutano le altre scuole nell'ambito del digitale, nell'introduzione del digitale nelle scuole. Qui a Abito Vistori ho portato l'ultimo progetto dell'associazione Discola, dal nome Scratch for Disability, che è un progetto che è partito nella primavera del 2017 e poi andremo avanti ancora per tutto il prossimo anno scolastico, 2017-2018. L'obiettivo del progetto è quello di formare insegnanti di sostegno, logopedisti ed educatori nell'utilizzo del coding, nel senso di insegnare loro, formare loro sulle tecnologie utilizzate per fare il coding nella scuola attraverso l'utilizzo di Scratch, in modo tale da poter poi in un secondo momento portare avanti un progetto di ricerca azione nelle scuole e se possibile appunto nei reparti di neuropsichiatria infantile con i ragazzini disabili o con i ragazzini con bisogni educativi speciali per capire se il coding può trovare delle applicazioni efficaci con questi tipi di problematiche. Quindi è un progetto che si pone come obiettivo quello di sperimentare il coding applicato alla disabilità o applicato ai bisogni educativi speciali. Pensiamo di poter concludere il progetto nella primavera del 2018 dopo la formazione di 300 insegnanti e operatori sociosanitari, fare con loro poi una sperimentazione in classe e nei reparti di neuropsichiatria infantile e poi la nostra idea è quella di raccogliere tutto il materiale per pubblicazioni, convegni, tesi in collaborazione con l'Università Torino. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.